ciao a tutti sono Mario Guccione indrecciatore di fiber vegetali oggi facciamo il pesce rosso con la palma da datteri si prendono prima due foglie così prendete questa foglia qua sono due e si indreccia sulle dita guardate 1, 2, 3 e così poi la seconda di qua facciamo tutto in giro prendiamo qua dentro, apriamo le dita si tira piano piano e poi di nuovo a questo lato qua e poi si tira leggermente piano piano il pesce si va a formare da solo e il pesce si prenda fuori pesce si può tagliare così e questo è il pesce pesce rosso fatto di palma da datteri